Secondo noi no, se l'Europa però cambia registro esattamente come sta chiedendo il Presidente Renzi. Il Presidente Renzi è stato chiaro, oggi c'è un incontro importante a Bruxelles e noi vorremmo che l'Europa cambiasse marcia, non guardasse più soltanto ai conti e all'austerità, ma avviasse un processo di riforma e di crescita importante. Uno dei primi paletti che vorremmo fissare è cercare di rendere più flessibile quel patto di stabilità, almeno per quanto riguarda le spese negli investimenti. Per noi è molto importante gli investimenti nell'edilizia scolastica, portare a casa questo risultato significa già cambiare l'Europa.